Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV l'informazione locale Scoperta a Fanno una casa d'appuntamenti gestita da cinesi Giornata segnata da incidenti stradali raffica di tamponamenti Arriva la presidente della Camera Boldrini Centro Storico Blindato Ecco Greta che ha 8 anni ha già scritto il suo primo libro Tra poco Missione Salute argomento della serata Lictus Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Buonasera, benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia C'erano anche degli imprenditori della zona tra i clienti delle prostitute cinesi scoperte e denunciate dalla polizia di Fanno in un appartamento a Ponte Metauro Servizio è di Simona Zonghetti Si prostituivano qui una villetta situata lungo la strada nazionale adriatica di fronte alla chiesa di Ponte Metauro a Fanno all'interno di questo immobile gli agenti del commissariato coordinati da Stefano Seretti hanno scoperto una vera e propria casa di tolleranza con all'interno 5 donne di nazionalità cinese e tutta l'attrezzatura del caso come salviette, luci suffuse e suddivisione degli ambienti inoltre lungo il corridoio che conduce alle varie stanze da letto avevano posizionato dei cestini dove venivano gettati profilattici di marca cinese mentre nel comodino di ogni camera c'era un bigliettino con alcune frasi tradotte dal cinese all'italiano per facilitare l'approccio nel giardino invece fino alla scorsa estate c'era una girandola come indicazione per i clienti che per non farsi riconoscere parcheggiavano l'auto di fianco al bar e poi si dirigevano a piedi contattando le prostitute al telefono queste si affacciavano dalla finestra e se riconoscevano l'avventore aprivano la porta per la maggior parte dei casi i clienti scoperti hanno più di 50 anni e sono nati fuori regione ma residenti in zona alcuni di loro sono sposati e tutti pagavano una prestazione che andava dai 30 ai 50 euro d'altra parte invece secondo alcune testimonianze pare che ci sia chi abbia rifiutato l'occasione non per un fatto di moralità ma per la scarsa igiene dei locali l'operazione delle forze dell'ordine è iniziata con diversi appostamenti dopo aver ricevuto segnalazioni su un vie e vai di persone e a tutte le ore del giorno a quel punto i poliziotti si sono finti clienti e sono entrati nella villa dove hanno sgominato il giro di prostituzione tre delle cinque cinesi tutte di età compresa fra i 40 e i 47 anni sono stati espulse perché erano entrati irregolarmente nel territorio nazionale le altre due donne invece avevano regolari permessi di soggiorno provenivano da Rimini e Macerata e sono già conosciute per gli stessi reati dagli accertamenti è emerso che erano loro gli organizzatrici dell'attività illecita così sono state denunciate all'autorità giudiziaria per aver ingaggiato persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento sessuale approfittando della loro posizione di clandestinità inoltre il proprietario della villetta un fanese di 69 anni è stato segnalato all'ufficio territoriale dell'agenzia delle entrate per aver concesso in uso l'immobile senza un contratto regolare e per aver recepito dalmeno un anno e senza dichiararlo un affitto di 1000 euro al mese l'edificio è stato chiuso i finanzieri del comando provinciale di Pesaro hanno perquisito le abitazioni di nove soggetti tra dirigenti collaboratori e soci nonché le sedi di un'associazione sportiva calcistica locale le indagini coordinate dal procuratore della Repubblica Irene Lilliu hanno avuto l'obiettivo di accertare l'emissione di fatture false per servizi di sponsorizzazione mai resi o resi in parte nei confronti di imprese operanti nella provincia di Pesaro e in quelle limitrofe al momento solo una persona indagata e i reati ipotizzati dagli inquirenti sono quelli di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti traffico bloccato questa mattina lungo la superstrada Fano Grosseto all'altezza di Falcineto dove 4 veicoli sono rimasti coinvolti in un tamponamento a catena l'incidente si è verificato intorno alle 8.30 sulla corsia di sorpasso in direzione mare per fortuna nessuna persona è rimasta ferita in modo grave ma per eseguire alcuni accertamenti i sanitari del 118 hanno trasportato uno degli automobilisti un 45enne di Cartoceto al pronto soccorso del Santa Croce per i rilievi di legge è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale di Urbino sarà la Presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini a dare lustro domani al Teatro della Fortuna di Fano alla cerimonia per il 25esimo anniversario della nascita di Fano Città delle Bambine e dei Bambini per i 25 anni della Città delle Bambine e dei Bambini Fano riceverà per la prima volta la terza carica dello Stato in ordine di importanza la Presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini è attesa per le ore 16 al Teatro della Fortuna dove parteciperà al convegno da Fano all'Europa le Città dei Bambini al suo fianco oltre alla parlamentare di SEL Lara Ricciatti al tavolo dei relatori il docente universitario Fabio Bordignon all'iniziativa sul 25ennale del Laboratorio dei Bambini anche il responsabile del progetto Fanese il ricercatore del CNR Francesco Tonucci è una presenza che vuole essere anche un riconoscimento importante viene in occasione del 25esimo anno della nascita del Laboratorio Fano Città dei Bambini che è stato un punto di forza dove Fano è stato punto di riferimento ed era anche uno dei miei cavalli di battaglia dove anche nel mio programma ho sostenuto che volevo riportare Fano protagonista su questa tematica in termini di attività in termini di scelta anche amministrative per la città ma anche elemento che potesse dare lustro alla città stiamo recuperando terreno adesso a breve presenteremo anche un nuovo progetto dove Fano sarà capofila per la regione Marche proprio su queste tematiche è un'iniziativa che sarà aperta alla cittadinanza ci saranno anche contributi di bambini di quello che è stato il patrimonio della Fano città di bambini si parlerà anche di Europa perché attraverso se vogliamo credere in un'Europa più vera dove ci sia veramente un senso di cittadinanza europea non si può che non partire da questo patrimonio che sono i nostri i nostri giovani come di norma si è messo in moto tutto l'apparato del protocollo di sicurezza previsto dallo staff di Montecitorio in questi casi e che era già andato in scena per la visita di Alfano piazza 20 settembre blindata e spiegamento di forze in divisa e in borghese fin dalla mattina per accogliere la Boldrini le massime cariche politiche militari e religiose al termine del convegno l'intensa giornata si concluderà con una cena al ristorante self service pesce azzurro ancora cronaca un incidente si è verificato oggi pomeriggio poco dopo le 14 nell'incrocio fra via 4 novembre e via 25 aprile a Fano la dinamica è la stessa del sinistro che è avvenuto in quel punto alcuni giorni fa tra un'auto ed una bicicletta il conducente della macchina si è immesso su via 4 novembre senza vedere il motorino che stava sopraggiungendo l'impatto è stato dunque inevitabile e la ragazza a bordo dello scooter è caduta a terra per fortuna senza ferirsi in modo grave per i residenti della zona però in queste strade c'è poca visibilità dicono mentre gli automobilisti spesso non rispettano i limiti di velocità il vescovo della diocesi di Fano Fossombrone Caglipergola Armando Trasarti si è recato ieri mattina in visita alla sede della guardia di finanza di Fano sua eccellenza è stato accolto dal comandante provinciale di Pesero Antonino Raimondo e dal comandante della compagnia di Fano Luigi Leuzzi Un altro temporamento questa volta si è verificato intorno alle 15 in Viale Romagna a Fano ferita lievemente una persona vedete queste sono le immagini registrate nel pomeriggio ferita dicevo lievemente una persona che è stata portata al pronto soccorso venerdì venerdì alle ore 21 in occasione del Giubileo della Misericordia si terrà un pellegrinaggio giubilare per tutte le parrocchie di Fano con l'ingresso alla Porta Santa in Cattedrale il ritrovo per i partecipanti è previsto alle ore 21 nella zona del Pincio durante la cerimonia verranno rinnovate le promesse battesimali ci sarà una catechesi del Vescovo Trasarti e la condivisione del pane offerta dalle parrocchie è nato a Fano il comitato Pacassoni avanti coi carri un'associazione che conta già più di 100 adesioni e che ha l'obiettivo di diffondere e valorizzare l'opera dei maestri carristi io mi ricordo la domenica mattina quando si aprivano i capannoni del carnevale la gente era piena perché veniva a vedere i nuovi carri la partecipazione c'era c'è ancora è quella che dobbiamo riscoprire promuovere la cultura la storia del carnevale di Fano e avvicinare ancora di più i fanesi alla manifestazione più antica della città sono solo alcuni degli obiettivi del nuovo comitato Pacassoni avanti coi carri un'associazione che conta già 100 iscritti e che è stata presentata alla cittadinanza da Fabiola e Alfredo Pacassoni rappresentanti della celebre famiglia di carristi noi insieme a tanti arti carristi Enzo Bonetti Hermes Valentini Marcellino Battistelli Radicioni Ferretti Dal Monte tanti abbiamo contribuito a questo valore della città che rischia di essere non viene mai ricordato questi personaggi questi artisti questi bravissimi artigiani hanno dato la passione un contributo eccezionale che potrebbe essere la radice di progressivi sviluppi della città oggi soprattutto in un periodo di crisi e che purtroppo sono spesso dimenticati quindi vogliamo valorizzare questo investimento fatto nel tempo anche da Babbo Pietro e da Giorgio Pacassoni ma da tutta la famiglia perché noi insomma lavorando da bambini nei carri al carnevale abbiamo conosciuto tutte queste esperienze e ci siamo accorti di questo investimento che vogliamo suggerire ai fanesi di riscoprire sono già diversi i carristi che fanno parte del comitato ad aderire anche Maria Flora Gian Marioli ex vicepresidente della Carnivalesca poi di missionaria sia per impegni personali sia perché in quella situazione ha spiegato senza scendere nei dettagli non riusciva più a dare il suo contributo come avrebbe voluto Gian Marioli si era anche candidata alla presidenza dell'ente intanto i promotori del comitato lavoreranno su un progetto culturale che comprenderà degli incontri con la cittadinanza e in particolare con i giovani studenti poi nelle mattinate del 30 marzo e del 7 aprile raccoglieranno le adesioni lungo corso Matteotti alla conferenza stampa inoltre ha partecipato anche il sindaco Seri tutti i contributi sono positivi ha detto ricordando che l'ultima edizione è stata da record si può sempre migliorare ha proseguito ma negli ultimi tempi la città si divide un po' troppo spesso e questo è un male poco prima i pacassoni ai quali sono stati rivolti applausi e apprezzamenti hanno fatto notare i dati che riguardano i soci dell'ente carnevalesca per una città con 60.000 abitanti meno di 2.000 tesserati sono pochi hanno detto gli altri 58.000 vanno aiutati a riscoprire il diritto di essere anch'essi parte della città del carnevale la memoria come partenza come ricordo e soprattutto come forza perché poi io mi sono resa conto che sono i bambini che cantano pacassoni avanti coi carri e l'ho sentito proprio con le mie orecchie quindi mi sono detta è quasi un inno avanti guardiamo avanti e noi come famiglia anche proprio nel rispetto e con onorevolezza verso mio padre e mio fratello quindi nostro padre e nostro fratello abbiamo sentito il desiderio di ricongiungere questi due mondi diversi il carnevale che nasce come gioco ma che poi noi diciamo è una cosa seria potrebbe diventare uno strumento proprio di unione per la città per ritrovare quel senso comune di appartenenza di cui credo un po' tutti abbiamo bisogno e adesso passiamo alle vostre segnalazioni questa è la foto di un nostro reporter di strada che ha scattato alla statua di Cesare Ottaviano Augusto al Pincio di Fano e si legge nel messaggio che ci ha inviato a proposito di carnevale com'è possibile che uno degli angoli più belli della città a due mesi dalla fine del carnevale sia ancora imbrattato dalle bombolette spray è una vergogna mentre andiamo su questo fermo immagine vedete il classico prima e dopo per dirvi che finalmente oggi sono stati è stata tagliata l'erba e quindi rimessa un po' in sicurezza tutta la zona in termini di viabilità e di visibilità soprattutto ricorderete nei giorni scorsi in questo punto c'è stato anche un incidente a causa della scarsa visibilità allora tra poco dopo di noi c'è l'appuntamento la seconda puntata del nuovo programma che si occupa di sanità missione salute Lino Balestra allora intanto mi pare sia andata benissimo la prima puntata sì è stato un successo di pubblico e di gradimento tante telefonate alcune non sono riuscite ad andare in onda proprio perché eravamo anche stretti con i tempi il tempo è tirano in alcuni casi però insomma grande successo e grande gradimento della puntata quale sarà l'argomento di questa seconda puntata invece allora parleremo di ICTUS e parleremo del reparto del corposo reparto di medicina interna dell'ospedale sia di Fano che di Pesaro e quindi saranno ospiti sia il suo direttore dell'unità operativa di medicina interna e il dottor Francolini che si occupa della stroke unit quindi parleremo di ICTUS e di come curarlo al meglio per intervenire per intervenire naturalmente a disposizione il nostro numero di telefono 861433 già a disposizione fin da ora per prenotarsi e per intervenire nella seconda parte del programma proprio con i medici in studio bravo hai studiato grazie allora il telegiornale è finito no ce n'è un altro c'è un bel servizio adesso invece questa sera vi raccontiamo la storia di Greta una bambina fanese di 8 anni che fra qualche settimana presenterà pensate il suo primo libro lei è Greta una bambina che frequenta la terza elementare alla scuola Montessori di Fano e che a soli 8 anni ha scritto il suo primo libro eh sì questa storia dà dell'incredibile eppure è tutto vero pensate che la passione per la lettura spinge Greta a leggere anche prima di andare a scuola e a divorare oltre 10 libri in meno di un mese come questi presi in prestito alla Memo di Fano e già pronti per essere restituiti dopo soli 3 giorni ed eccola qua invece la sua prima pubblicazione il libro edito da Arduino Sacco Editore sarà disponibile ad un prezzo di 9,90 euro nelle librerie della città su internet e potrà essere richiesto alla Mediateca Montanari dove fra qualche settimana Greta presenterà il suo romanzo alle scuole primarie di Fano da che cosa è nata l'idea di scrivere questo libro? Dall'inizio mi piaceva sempre scrivere anche da piccola e un giorno lo facevo solo per divertirmi ho detto mamma voglio scrivere un libro e il mio libro è nato tutto da questo Eccolo qua il libro Il compleanno perfetto di che cosa tratta? Parla di Viola che è una bambina più o meno della mia età che sta organizzando il suo compleanno e vuole che tutto sia perfetto ma viene tutto viene rovinato da un imprevisto si deve trasferire e allora deve rinunciare a tutto Lo ha completato in pochissimo tempo questo volumetto di narrativa di circa 100 pagine e neanche a dirlo ha lasciato tutti a bocca aperta stupiti innanzitutto mamma Daniela e papà Francesco che hanno il merito di aver accompagnato in biblioteca Greta e suo fratello Alessandro fin da quando erano bambini quando ancora quasi non camminavano io leggevo e sfogliavo i libri per loro e ora c'è questa passione leggono tutti e due tanto sono veramente contenta e spero proprio che questa l'esperienza di Greta sia proprio uno stimolo per tutti gli altri ragazzi per far vedere che ci sono passioni come la lettura la scrittura davvero fantastiche non ci sono solo i videogiochi solo i telefonini eccetera qual è stata la vostra reazione quando Greta vi ha comunicato che avrebbe voluto scrivere questo libro all'inizio non pensavamo fosse una cosa così seria abbiamo presa più per un gioco poi dopo effettivamente si è chiusa in camera con il computer portatile ha cominciato a scrivere e il bello è che l'abbiamo letto solo alla fine noi il libro e siamo rimasti a bocca aperta abbiamo trovato questo editore ma non solo lui abbiamo avuto una risposta davvero positiva tantissimi complimenti Greta che risponde alle mail di vari editori editrici che le fanno i complimenti che vorrebbero conoscerla quindi si è aperto veramente un mondo e siamo molto contenti per noi è già un successo averlo pubblicato ma il successo probabilmente non terminerà qui perché sverciando nella cameretta della bambina oltre a libri foto ritratti e peluche abbiamo notato anche un computer portatile lasciato aperto sopra la scrivania e leggete un po' qui sotto la neve ecco il titolo del secondo libro a cura di Greta Berardi però per ora ci limitiamo ad annunciarvi l'appuntamento per la presentazione del compleanno perfetto vi aspetto a tutti alla presentazione del mio libro alla biblioteca Memo il giorno 18 maggio alle 17.30 ebbene davvero complimenti alla piccola Greta otto anni sono notizie queste che aprono il cuore e ci danno ancora tanta speranza noi ci fermiamo qui grazie per aver seguito Occhio alla Notizia arrivederci a domani grazie a tutti grazie a tutti Autore dei sorrisi